musica 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 penso di poterci fare abbastanza bene un ufficio e il caffettino non parla a me finchè non bevo il mio caffè ahah musica 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 palloncino sembri un po' spaziale cosa è un caso dei lunedì quei giorni fanno schifo ho ragione ho ragione si qualcosa dice qualcosa dimmi che ho ah nico hypo perfetto proprio quando ho bisogno di qualcuno con cui clownare andiamo ragazzo di qualcosa raggi rat non mi senti io ah ah Ahahahah! 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 Iaco! Ahahahah! Ah! Penso che io sia divertente vero? Certo! Sono dei mai fateli più divertenti! Facciami dei primi due! Lo stesso vale con me? Oh grazie! Dove siete stati voi due? Bye!